Ciao, sono Elena Domasheva, una musicista russa. Attualmente vivo qua in Italia. Sono qua per presentarvi un mio progetto del coro delle voci bianche. Si tratta di creare un gruppo dei bambini di età da 6 a circa 14 anni, cioè quell'età del bambino quando la voce ancora non subisce le mutazioni, rimane bianca cosiddetta. I bambini possono partecipare in questo gruppo di ambo i sessi, quindi non ci sarà neanche il limite per la nazionalità perché alla fine noi parleremo la lingua della musica. Dopo qualche tempo di studio questo gruppo musicale diventerà un'entità concertistica, quindi potrebbe esibirsi in diverse occasioni, sia nell'area chiusa come le catedrali, auditorium, sali filarmonici, sia all'aperto. Non ci saranno limiti neanche per i complessi perché questo coro potrà essere accompagnato dall'organo, dall'orchestra, eppure potrà esibirsi senza accompagnamento, cioè a cappella, a che personalmente io ci tengo tanto. Per fare partire questo progetto non servono tante cose, perché servirà un maestro, i bambini e uno, un forte di questo mondo, che ci darà il sostegno materiale. Quindi da parte mia io offro la mia preparazione, esperienza e la passione. Da parte dei bambini non ci saranno problemi perché la partecipazione a questa Accademia sarà gratis per loro. Mi spiego pure perché. Secondo la mia esperienza, i bambini con più talento, direi con un talento vero, nascono proprio nelle famiglie che non possono permettersi di dare una buona istruzione ai loro figli. Quindi da parte dei bambini, direi pure da parte dei genitori, servirà solo la sensibilità di capire quello che stanno facendo i loro figli. Quindi per partire ci servirà un locale caldo, luminoso, con una certa acustica, provvisto di pianoforte, di wifi, di un centro musicale per ascoltare la musica, di sedi per i bambini, eccetera. E dall'altra parte servirà un ricompenso mensile per il maestro. In questo caso sono io, perché io penso di fare le prove, all'inizio ci saranno le lezioni, poi le prove, con i bambini almeno tre volte alla settimana. Ecco perché questo gruppo, ho chiamato l'Accademia, perché i bambini studieranno la musica in generale, il canto corale in particolare. Quindi mi rivolgo ai forti di questo mondo e solo a quei forti che ci credono in questo progetto. Noi vi aspettiamo. A presto. Ciao. Ciao.